Il depredatore Vincenzo Sarraggiato aveva un figlio come si dice un figlio di padre ignota senza nascita faceva un marionto per campagna una manovra che fa dentro il piede non ci fa un appazzotto e è carino nemmeno un pizzo o un mustaccio fisico che alla volta non potessero salvare quando ha scelto la galera di depredatore ci ha stimato sempre una storia all'aspettato ma io so tutto mi ha raccontato tutto è un signore è un signore che entra e esce a casa entra e esce ed io voglio aver chiamato più senere perché io non lo lascio non lo lascio io non lo lascio io non lo posso lasciare tu per delegatezza non hai voluto dire carcere hai detto no no per delegatezza per perdone no! non è certo! unisco dai bottini in una canina e danno pure i piatti e giode con le mani che fanno schifo e così ti guadagno la vita e voi che mi avete detto parlando di lui? e chi è lì? che non ci ha accettato? che cosa faccio? che cosa faccio? i franco bolli fossero lo stesso per i vecchi e per i giunni ci ripetevi per l'espresso per il linguaggio quello che santo è? è San Giuseppe e non lo vedi il Montellugione che devi dire? quello è stato il tuo sporco di bubba è sporco ma si vede che è il Montellugione se mi faccio proteggere da lui c'è tutto il paradiso dalla mia parte San Giuseppe o bello? no! ma come si parla con San Giuseppe? e come si parla? ma come si parla? ma come si parla con una donna presente? non va bene ma per me fra me e voi è un'altra cosa come si fa a parlare con una donna presente? di Luccia lo deve sapere gli spieghi è giusto non facciamo che attraverso Santa Vinta facciate satisfar con me niente io quest'angolo lo vedete? lo faccio diventare un santuario dici perché io d'acqua e che guadagno? che guadagno? che guadagno? 300 libri per lavare le bottiglie per mangiare quando si e quanto vu e uno di questi lavori che vorrei fare io a scuola non ci sono andato non mi ci hanno mandato e quando scrivo mi vergogno perché faccio le zampe delle piccole non mi ti rende ho Andato ee una cannella e con le sue stesse vanno la piglia e la mette davanti al santo per dire che è piaciuta la cannella ci mettiamo 6 salofani San Giuseppe lo capirà ma da un pochino cittadino e il resto delle 500 euro che vi ho dato? un gestito, poi ora me la venerà aspettate un momento poi ci stanno le 430 di resto e grazie assai e grazie pure a te e di lui ce ne dico ho fissato pure i mobili ho fissato pure i mobili a rate santa papà e io? e io? e papà e papà? no mi ha offendito l'altra volta avete papato voi? ma sei che papà? ma quando mi ha fatto? e io? e io? ecco qua e ecco qua e io? 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 ma se non è qui quanto avete nel portafoglio? e io? e io? non faccio i papà e io? e io? e io? e io? e io? e io? No, grazie! Carogna! Ci sono quanti di famiglia! Questi sono perché devo portare in banca! Ma ragazzo! Domicici! Allora, domicici! Sì! Disgraziati! Io mi sarei data a te con gioia! Quando uscisti dal cacere non pensavo ad altro! Pure io, pure io, che mi convinzi talmente tanto di fare le cose fecole! Pensavo di farcela! Ma invece siamo rimasti più da novanta e da quest'altra! Che sacrificio l'avrei dato se tu da vivo mi avessi abbandonata per un'altra donna? Allora sì! In convento ne sarei andata! Fra le sepolte vite sarei andata! E come avrei potuto vivere sapendoti felice con un'altra donna? La morte invece è un fatto definitivo! Sì! Qui siete! Del Fredore Vincenzo! Eh! Fredore Vincenzo? Sì! E che volete? Vorrei parlare con San Giuseppe! Ho i figli, lo sai? Quei cinque milioni mi mandavano in galeta! Se non fosse stato per il pesante protettore! Ma la aspetta! Ma a te che ti protegge? San Giuseppe! Ma guarda papà! Io sono Giuseppe! Eh! Ma figlio Giuseppe! E' la stessa cosa! Ma figlio Giuseppe! Ma io sono San Giuseppe! Ah! Aspetta un momento! Ma tu... Sino morto! Pariore! No! Adesso che sono morto! Sono buon essere! Giuseppe! Cosa c'è? Aro! Maestro! Non c'è come giude e come è stato! Ma lo sento è sconcertato! Non c'è messa Aro! Avesse a cominciare! Perché l'ha già fatto! Quando vado a dire che esiste solamente il Padre Eterno! Quei saranno da scendere all'inferno! Perché questa protezione! non lo può dire! E me lo ha fatto! Quella è la porta! Però ci penserei per un momento! Perché se poi ti viene il pentimento! La porta è chiusa! E chiusa resterà! Va bene! Fate entrare dentro tu! Me lo farete almeno interrogate! Vieni avanti! Vieni avanti! Vieni avanti! Vieni avanti! Forza! Vieni! Vieni avanti! Vieni avanti! Sono di padre ignoto! Non c'è nessuno! Ma ignoto di che cosa? E quando sulla terra non si ci usano! I figli! Il servo ne dichiarà! Vabbè! Ha già capito un fatto da niente! Perciò non diventaste a riuscire! E per sì! Ma solamente per campare! Senza un padre che ti manda a scuola! Abbandonato! E solo mezza via! Facendo solamente la catamina! Si sapeva che si fornisce la mia mamma! Vieni Gesù! Perché io sento apposito! Perché se voglio fare una vita onesta! E nessuno mi aiuta! Calma resta! Industrializza la disonestà! Con questo proiettile è difficilmente liberato! Ha libero nome! Ho confessato! Che era la lucilla! E capo questo! Sono comodo acciso! Vi prendo! Fatemi rimanere in paradiso! E no! E davvero messo! Voglio restare! E no! Non può fornire al possibile! E ho vero un gentile! E ti aspetta sempre o stai! Ti ricordo quando tu mi ha domandato! E tu morivi con paceva! E io ti aspetta sempre o stai! E io ti rispondevo che ero in età già o stai ci! E invece con una stai ci! Tenevo una fotografia mia! E la ricordina passata! C'è nessuno che va arrivando! Ma tu ci sei! Nessuno! E io ti aspetta sempre o stai! Per me non passo è! Tra le faccio sempre che... Per me non passo, per me non passo è! Per me non passo, per me non passo è! Poi che per me non passo è!